ma com'è che è un bambino siamo a Mexicalito e Citarrella è alla quarta tequila su di Lione è un Long Island non finito è andata in Long Island non finito ed è in queste condizioni ragazzi ragazzi siamo ai livelli di Davide forse ti sta riprendendo questa è la nostra amica Stacy from Ucraina in Odessa brava Stacy compa Nasdrave si dice Nasdrave bevi tutto e bo bevilo tutto fino all'asciutto bevilo tutto bene dai devi svuotare il bicchiere guardate 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 ce la faccio la faccio la faccio la faccio la faccio la ce la faccio la ma non ce la faccio 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 e questa è Città incappucciato vivo oltra na papiri